Cari ragazze e cari ragazzi, so di rivolgermi con questo mio messaggio di saluto a studentesse e studenti interessati ad iscriversi all'università. Immagino che molti di voi siano mossi da desideri diversi ma simili, quello di acquisire maggiori conoscenze, quello di rafforzare le proprie competenze, quello di esplorare le proprie capacità intellettive quello di inseguire un sogno. Tra di voi ci saranno ragazzi e ragazze desiderose di diventare medici, giuristi, ingegneri, economisti, insegnanti. Il mio primo obiettivo è quindi quello di convincervi quanto sia importante per voi, come persone, prima ancora che come futuri professionisti e professioniste, proseguire gli studi all'università. Mai, come in questo momento a valle di due anni di pandemia, è risultato chiaro a tutti quanto la conoscenza che si acquisisce con lo studio e con la ricerca, che sono i pilastri dell'università, sia fondamentale per migliorare la qualità della nostra vita. E mai, come in questo periodo storico, al di là della pandemia, è chiaro a tutti che la nuova frontiera che si apre davanti a noi è la cosiddetta economia della conoscenza. Conoscere, sapere, imparare e farlo attraverso l'esperienza della ricerca e l'insegnamento dei maestri è il miglior modo per essere cittadini e persone migliori. Il secondo obiettivo di questo mio saluto è presentarvi all'università di Siena, un ateneo che da quasi 800 anni è ospitato in questa bellissima città che ne costituisce il campus naturale ed è occupata a produrre conoscenza attraverso la ricerca e a diffonderla attraverso la didattica. In questi quasi otto secoli abbiamo ampliato le discipline del sapere. Abbiamo accolto milioni di studenti da ogni parte d'Italia e del mondo. Siamo diventati un ateneo internazionale e conosciuto in tutto il mondo. L'Università di Siena del terzo millennio offre alle nostre studentesse, ai nostri studenti, con la bellezza della città che ci ospita, un luogo ideale per intraprendere un'esperienza umana e formativa completa, fatta di conoscenza e di conoscenze di altri studenti, di altre esperienze, di altre culture. Ecco perché siamo pronti ad accogliervi all'Università di Siena. Vi aspettiamo a braccio aperto.